Dalle opere realizzate con gli schianti di Vaia al parco il legno di risonanza della Val Vizdende per concerti e spettacoli. Il progetto riembientiamoci nato nel 2019. In questi anni è animato il comelico, coinugando nel dopo Vaia la questione legno al turismo, alla musica e all'arte. La serata al Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore è stata l'occasione per fare il punto su quanto fatto in questo periodo dalla cooperativa Lassù, promotrice e coordinatrice del progetto, insieme alle regole, ai comuni e altre realtà del territorio. Ha attivato un processo, che è un processo di fatto partecipato, in cui ci siamo inventati una modalità nuova di vedere il bosco e abbiamo coinvolto la comunità. Tra le varie modalità di coinvolgimento c'è stato proprio il tema dell'arte e della musica. Anche le regole hanno visto in questa nuova visione della risorsa legno un'opportunità importante per il proprio territorio. Questo progetto è di vitale importanza per noi, visto anche il momento storico che stiamo vivendo, visto che il legno perde sempre progressivamente forza e valore. Noi abbiamo investito molto in questo progetto, oltre che visibilità, guardando un po' al futuro, cercando di sopperire all'eventuale mancanza del legno, perché in questi anni abbiamo perso tantissimo convaia e adesso con il bostrico purtroppo verrà giù ancora peggio. Il sogno di Reambientiamoci resta l'realizzazione di Casa Armonica, una struttura in Val Visidente che possa potenziare l'accoglienza e l'offerta culturale in quell'area. Per sostenere, nella primavera del 2023 partirà un crowdfunding, ossia una raccolta fondi pubblica destinata al completamento di un'opera utilizzabile dalle comunità locali. A Monte di Tutto c'è un progetto sul quale stiamo lavorando per capire quali sono i reali costi e soprattutto vogliamo rendere sostenibile questo progetto. Quello che ci piacerebbe è che l'accoglienza degli artisti, tutto quello che è concerto, ma anche i laboratori ambientali che in qualche modo abbiamo già attivato anche con altri enti territoriali, diventino spazi utilizzabili dalla comunità. Grazie.